Ciao a tutte ragazze, io sono come sempre Berta Filava. Prima di guardare il tutorial di oggi vi invito a collegarvi su Facebook alla nostra fanpage Berta Filava e ad iscrivervi al nuovo gruppo Facebook Aliexpress slash Amazon per creative by Berta Filava dove troverete tutti i link per poter acquistare i materiali da noi usati sui nostri tutorial. Vi lascio alla visione del video, grazie a tutte e alla prossima. Allora, come attacco il feltro alla calamita? Allora, di solito questo genere di foglio calamita ha la parte che si solleva e c'è la parte adesiva. In questo caso a me è capitata, praticamente sono capitati dei fogli calamitati che sono per stampa perché costavano pochissimo in un negozio di obbistica. Quindi li ho presi in quantità industriale però poi in realtà diciamo che la parte bianca non viene via. In ogni caso, anche se usate quelli con la parte adesiva perché poi tendendo a staccarsi, vi conviene sempre e comunque mettere il medesivo come sto facendo in questo momento. Uso quel pezzo di fustella perché praticamente siccome va a diventare duro poi tutto, con la fustella metallica dovete fare tanti passaggi. Invece così, usando la biz va tranquillamente, con una fustellata riesco a tagliare tutto insieme. Aspettate che qui non si apre. Quindi ripeto, io uso la fustella biz che avete visto perché siccome andrò a fustellare poi tutto insieme, altrimenti mi viene più facile. Invece se uso la fustella metallica la taglia allo stesso con l'unico problema che dovete fare tante tante passate. Ovviamente lo stesso metodo lo potete usare con la gomma. Quindi, cosa faccio? Ripeto, c'è il foglio calamitato. Di solito si stacca la parte bianca. In questo caso, purtroppo è stampabile, quindi non si stacca. Ma in entrambi i casi, sia se avete il foglio calamitato con l'adesivo, che come in questo caso, dovete sempre fare la passata di biadesivo o di colla. Io non ci metto la colla perché praticamente può creare spessore. Cosa che così non succede. Ripeto. Questa è un'idea di calamita veloce. Poi sono sicura che farete tantissimi altri lavori carinissimi. Questa è un'idea per creare velocemente, con una fustella, delle calamite a tema. Senza avere materiali chissà che, perché questo foglio calamitato a me è costato un euro. Ora vado a fustellare. Metto così e vado a fustellare tutto insieme. Con la scusa vi faccio vedere anche la fustella dopo. Che è metallica. Fustello e torno. Ecco qui. Ripeto, lì mi ero dimenticata a farvi vedere la parte dietro. Vedete, è proprio calamita. Ora cosa sto facendo. Siccome andrò a mettere praticamente una scritta molto sottile, metto un po' di vinilica sopra il mio filtro. Se il filtro è buono non si scolorisce, se non è tanto buono un pochino scolorisce. Quindi cosa fate? Fate la prima passata di vinilica, così. Allora io bordo a bordo metterò praticamente un po' di polvere per dare una sfumatura. Quindi al bordo io non faccio entrare la vinilica. Perché faccio la passata di vinilica? Perché potrei mettere alla scritta il mio adesivo, però siccome la scritta è molto sottile, poi mi sono accorta che tende ad attaccarsi. O potrei mettere la colla a caldo, ma appunto perché è sottile la scritta, poi si vede la colla. Così no. Quindi, ripeto, se volete se volete praticamente non far vedere la differenza di colore, come in questo caso, perché questo filtro 3 mm non è particolarmente buono, e praticamente vi conviene passarla su tutto. Ora vado a fustellare questa fustellina e torno. Intanto aspetto che si asciuga. Per anticipare praticamente l'asciugatura, dimenticavo una cosa importantissima, voi asciugate, quindi fate schiarire la colla vinilica, ma lasciatela, deve rimanere quel tanto giusto che possa incollare la scritta. Quindi aspetto un pochino, e ho iniziato a cambiare colore praticamente la vinilica, fustello e torno. Eccomi qui. Ho fustellato, come vedete, se è schiarita. Questa è una scritta Happy Esther, è molto carina perché, vedete, la parte scritta è sopra la fustella, quindi se avete dei pad usurati non si vedrà. Come vi dicevo è molto sottile. Ho lasciato la vinilica ad asciugare per un po', ovviamente è ancora adesiva, poco ma è ancora adesiva, quindi è in grado di incollare la scritta. Poi ovviamente aspetterò tutta la completa asciugatura. E siccome, ripeto, quel tocco di colla, ma non troppo, non rischio di sporcarmi le mani quando vado a tamponare. Vedete, tampono bene la scritta in modo che aderisca bene, perché la scritta è fatta in gomma e eva, e poi praticamente una volta asciutta, intorno intorno andavo a sfumare con un po' di gessetto, in modo da dare la sfumatura del verde che sto usando. Quindi per questo io non ho passato la vinilica ai bordi. Voi dovreste, se lo volete tutta omogenea, dovete mettere tanta vinilica anche nei bordi. Ovviamente il felto si va a schiarire. Diciamo che la scritta è finita. Veloce, veloce. Ora, come finisce ad asciugare, andrò a mettere un po' di ombretto. Poi vi faccio vedere il risultato finale. Comunque, anche così è carissima. Aspettate che... Ripeto, a me piace tanto. Intanto finisce a salutare. Aspettate che è storta. Non mi sono resa conto. Muoverla a giro. A me piace tanto. Ripeto, comunque schiarisce tanto. Eccola qui. Comunque, alla fine dell'asciugatura non si vedrà comunque la vinilica. Sembrerà sfumata. Alla nostra calamita è pronta. Grazie a tutte. E al prossimo video. Vi faccio vedere il risultato. Ciao, ciao! Grazie a tutti.